Il suo lavoro Presso il cerchio esteno si manifesta una guida che ha operato molte guarigioni. La guida è chiamata cerusico perché nel Medioevo il suo lavoro era quello di barbiere e di chirurgo. La sua voce è lenta e pastosa. Le persone trattate da lui non devono essere toccate da altri per un certo tempo per evitare la dispersione dell'energia ricevuta. Attraverso il medium NT del cerchio esteno il cerusico ha guarito molte persone. Nella sua precedente incarnazione il cerusico è stato Albert Schweitzer, 1875-1965, medico e filantropo tedesco, pastore e missionario luterano franco tedesco, fondatore dell'ospedale di Lambarenne nel Gabon. Nelle ultime riunioni del Cenacolo, cui da due anni partecipa chi scrive, il cerusico ha ripetuto che mancano nel cerchio le molte energie necessarie per le sue terapie e quindi la sua presenza è più utile altrove. Molti anni fa il cerusico, durante numerose trans profonde del medium, ha guarito Anna, che partecipava alle riunioni dell'Esseno con la testa rasata, in attesa di essere operata di cancro. Anna non fu operata e anche adesso è un'assidua frequentatrice dell'Esseno e ha continui contatti con Massimiliano, il figlio trapassato.